Un'installazione nuova e innovativa per un comune come quello di Villa Cegliere, il commento del sindaco Domenico Vespa. In un paesino come il nostro l'installazione del postamat, bancomat, è di fondamentale importanza. Dall'inizio ci siamo veramente prodigati per cercare di fornire e di offrire alla nostra cittadinanza sempre maggiori servizi e questo era uno di quelli veramente che mancavano, ma soprattutto uno di quelli di cui non potevamo fare a meno. Ed è importante questo servizio non soltanto per la comunità di Villa Cegliere, ma per le comunità vicine e soprattutto per tutte quelle persone che ogni giorno si regolano nel nostro territorio. Voglio ringraziare Poste Italiane perché ha capito l'importanza che ha l'ufficio postale in una piccola comunità. Oltre 300 sono i comuni del nostro Abruzzo, gran parte sono comuni montani, quindi diciamo che è una situazione altimetrica ragguardevole, e poi sono piccoli comuni come per esempio il comune di Villa Cegliere che ha circa 600 abitanti. È una importante sinergia che si applica tra un piccolo comune e Poste Italiane che oggi installa qui questo postamat, questa bella iniziativa, che fa parte dei 10 obiettivi di Poste Italiane per venire incontro ai piccoli comuni. I piccoli comuni rappresentano il tessuto dell'Italia, sono 5.000 circa su 8.000, quindi già questo numero la dice lunga su quanto siano importanti. Per Poste Italiane lo sono assolutamente ed è dimostrato il fatto che l'azienda già lo scorso anno nel corso dell'incontro con i sindaci dei piccoli comuni si è presa degli impegni specifici e concreti. Uno di questi fondamentali è quello di mettere gli ATM, i Postamat, proprio in questi piccoli comuni. Oggi siamo qui a Billa Celiera per inaugurare questo ATM e quindi a dimostrazione del nostro impegno e del fatto che per noi i piccoli comuni sono effettivamente essenziali perché l'Italia sta qua.